Sono gli stessi che abbiamo di partita in partita, noi cerchiamo sempre di giocare al meglio e cerchiamo durante la settimana di preparare la partita per vincere, quindi anche contro la Juventus cercheremo di fare questo, nonostante sappiamo che è la squadra più forte del campionato, però non cambiano le cose. Hai visto il campionato ieri sera? Sì. Cioè, chiaramente, come ho detto, è la squadra più forte della Juventus, è quella che corre di più, è quella che non molla mai, quindi sappiamo quanto possono essere forti i loro giocatori, anche sul singolo sono fortissimi. Ci prepariamo al meglio e basta. Grazie.